siamo noi i giudici avete 15 minuti di tempo da ora scelta interessante il nuovo grana padano d'op granarolo è un prodotto d'eccellenza un ingrediente della nostra tradizione ed è già grattugiato vedi com'è pratico stop troppi ingredienti e poco gusto molto gustoso questo è il piatto vincente il nuovo grana padano d'op granarolo fa la differenza tradizione italiana e passione per la qualità è quello della loro nuovo grana padano d'op granarolo più gusto alle tue ricette